Chiara e Federico sono tornati dal concerto e quando sono arrivati hanno salutato Paloma ma hanno trovato una bella sorpresa. Stai aspettando delle coccole? Vorresti delle coccoline? Volevi delle coccoline tu? Ci siamo mancati? Ci siamo mancati in matta? Dammi un bacino, dammi un bacino. Che bacione. Aveva appena detto brava Paloma non hai fatto della pipì nella cacca. L'ha fatta nel posto migliore dove poteva farla. Ma quando adesso? Eh boh si vede per darci il benvenuto tipo ehi siete tornati vi piscio nel letto. Bentornati a casa. Dalla faccia di Chiara si capisce tutto. Infatti è un po' arrabbiata con Paloma ha fatto pipì sul letto. Brava Paloma simpatica anche lei.